Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel nulido strumento comunista che ha confinato di attivare le secondarie a parte? Ah non è nessuno eh? Ha la strada la fatica buona del cazzo? Chi ha faccio a parte di chi la legge e vi faccio venire i bambini del mondo sicuro?